oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino buongiorno a tutti noi siamo alberto francesco francesco fredeico e oggi vi leggeremo dal capitolo 6 e ora si comincia sedete comodi e niente rumori avventati c'è azione un signore che sa il latino ma non più il greco cammina per casa e attende una telefonata in realtà egli non sa quale telefonata attende né se ci sarà una supponendo che non ci sia nessuna telefonata egli ignora che cosa mai ciò vuol dire certamente egli aspetta telefonate di persone che hanno a che fare in modo intimo con la sua vita alcune di queste telefonate egli le teme sa di essere facilmente insidiabile e che per un po' di silenzio è pronta a pagare in monete di sangue per motivi che non ha mai interamente decifrato ha la sensazione di essere oggetto di intermittenti attacchi di odio e differenza sentimenti che danno a chi li prova un bel senso di potenza e li spingono a usare il telefono una volta ricevette la telefonata di un amico cui aveva prestato del denaro il denaro era stato prestato 30 anni prima mai restituito ma ne era germogliato un odio profondo l'amico aveva anche cercato di picchiarlo un'altra volta aveva cercato in vano di arrestare una telefonata singhiozzata di una donna abbandonata che aveva sbagliato numero con costei aveva iniziato una corrispondenza telefonica proseguita per alcune settimane finché dall'altra parte del telefono gli aveva risposto una voce ignota litigiosa e innocente egli non aveva più osato chiamare ora potrebbe chiamarlo una donna che gli ama e che non osa amarlo se non con lunghi intervalli di tormento una donna che gli ama e lo gli ama ma che ha troppo da fare per accorgersene una donna che gli non ama e che lo ama e che lo lusica senza impogli intollerabili conflitti in realtà egli vorrebbe appunto una telefonata diversa non prevedibile destinata a cambiare l'immagine di una vita che egli non trova interessante ma solo e tante ecco da che l'amico di un amico aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata dal padre morto da sei anni era una telefonata bosca già che il padre aveva sempre avuto un cattivo carattere e nell'istante breve e futile forse è una bolla il signore chissà il latino vorrebbe non aspettare le telefonate le telefonate vengono dal mondo sono in conclusione l'unica cosa concesse gli dell'esistenza del mondo ma non della sua buongiorno a tutti io sono dario sono francesco e per l'apertorio a speed hub oggi faremo shrek scena 6 io farò zenzi il mio amico lord facqua ok vai bene ora basta è pronto a parlare vai vai più veloce che sai sono un pan di zenzero a caparmi non potrai sei un mostro non sono io il mostro qui tu lo sei tu e il resto di quella feccia delle favole che si sta avvelenando il mio mondo perfetto ora dimmi dove sono gli altri inzo papi ho cercato di essere giusto con voi creature ora la mia pazienza è raggiunto il limite dimbaroti no no i miei bottoni hai i miei bottoni gommosi bene allora chi li nasconde d'accordo te lo dirò tu conosci l'uomo focaccina l'uomo focaccina l'uomo focaccina si conosco l'uomo focaccina che vive da una farina beh lei è sposata con l'uomo focaccina l'uomo focaccina l'uomo focaccina è sposata con l'uomo focaccina buongiorno a tutti io sono alberto femmia e oggi vi leggerò da un nuovo prezioso ristorante che si fa chiamare i vitelloni a torino in corso matteotti si trova un affascinante ristorante del franchising i vitelloni che fin da 2013 offre una cucina italiana tradizionale con piatti abbondanti e gustosi come antipasti tipici piemontesi e la classica orecchia d'elefante inoltre il locale offre una grande selezione di pizze sia bianche e rosse tradizionali sia gourmet e anche focacce e pizze dolci una pizza davvero molto particolare per dare un senso ad un'occasione speciale con i ingredienti popolari e la pizza porco una pizza rossa con aggiunta di prosciutto cotto, viustel, salsiccia, pancetta e patatine fritte il ristorante prende il nome dal film di Federico Fellini del 1953 simpatica commedia con protagonisti 5 giovani golliardi giovane con riferimento alla vita libera e spensierata l'ambiente giovane e moderno ma anche confortevole e familiare ha dato a tutte le età e anche ai gruppi di persone lo spazio è diviso su due piani, pian terreno e semi interrato con coperti su entrambi i livelli e uno spazio giochi per bambini a quello inferiore ciao a tutti, io sono Lorenzo benvenuti non solo nell'ultima puntata di Radio Teatrotto ma benvenuti anche nel primo speciale di Radio Teatrotto beh, oggi ho pensato di fare il primo speciale, anzi il primo special di Radio Teatrotto adesso per voi è arrivato il momento di ascoltare e di vedere tutto il futuro cinematografico e seriale di Kiss Next Door cioè la serie animata di Cartoon Network creata da Mr. Warburton è composta da 6 stagioni e 78 episodi e 3 film cioè Kiss Next Door, Operazione Zero, Kiss Next Door, Operazione Interviste, Kiss Next Door anzi, anzi, è anche il crossover, Le tenebrose avventure del KND è andata in onda proprio su Cartoon Network dal 6 dicembre 2002 al 21 gennaio 2008 questo nuovo universo narrativo come l'MCU e il DCU ah, oppure il DC Universe permetterà al pubblico di grandi e piccoli di esistere al grandissimo ritorno di Kiss Next Door che è stato cancellato da moltissimo te One Abroad Discovery deve mettersi d'accordo con Cartoon Network per ottenere i diritti di Kiss Next Door e di formare un nuovo universo cinematografico e seriale come era accaduto, se vi ricordate è di ciò che ne avevamo già parlato nella scorsa puntata lo scorso 31 gennaio 2023 quando James Gunn e Peter Safran hanno creato appunto il DCU beh, adesso io vi propongo film e serie tv dell'universo cinematografico e seriale di Kiss Next Door e così tutto il mondo intero si renderà conto che che Kiss Next Door ha bisogno di un grandissimo ritorno in tv e di una prima apparizione al cinema ecco a voi la lista dei film e delle serie tv che saranno presenti appunto nell'universo cinematografico e seriale di Kiss Next Door ed eccoli qui allora, al numero 1 Kiss Next Door, l'operazione eroe allora, Kiss Next Door, l'operazione eroe è il film di Kiss Next Door che io attento tantissimo perché la protagonista di questo film è numero 5 Abigail Lincoln ed è una ragazza che nella serie animale originale ha sempre affrontato moltissime avventure con il team allora, allora io spero che nel film mettano la scena iniziale con il numero 5 da bambina per la quale lei ha subito il dolore a causa della morte dei suoi genitori e che viene affidata alla famiglia affidataria composta dal dottor Lincoln da sua moglie e dalla loro figlia adolescente Cree di quella stessa famiglia che noi abbiamo visto nella serie animale originale poi io non vedo l'ora di vedere Jason Momoa che doppia se stesso perché lui non ha mai fatto doppiaggio visto che di recente come attore era impegnato in film come Slumberland nel mondo dei sogni di Francis Lawrence che è di Netflix Fast X in cui lui interpretava l'antagonista principale cioè Dante Reiser che noi lo vedremo nel prossimo capitolo della saga di Fast and Furious e Aquaman il regno perduto in cui noi lo vedremo di nuovo nei panni di Arthur Curry cioè appunto Aquaman noi sappiamo già che la regista di questo film sarà Jane Campion e noi non sappiamo chi comporrà la colonna sonora e a me piacerebbe tantissimo Nicola Piovanni perché dopo aver lavorato alle colonne sonore di film italiani come La Vita Bella di Roberto Benigni Il traditore di Marco Bellocchio Amamet di Gianni Emelio e i fratelli del Filippo di Sergio Rubini e Leonora Dio di Paolo Daviani potrebbe essere non solo la prima volta che compone la colonna sonora di un film d'animazione ma potrebbe essere anche la seconda volta che un compositore italiano compone la colonna sonora di un film americano dopo la prima volta venuta con Ennio Morricone Gli altri personaggi che noi vedremo nel film sono Il Padre che sarà la protagonista principale del film Il Siriorini Perfettini Numero 86 Fanny Fabright Numero 362 Roger McKenzie Numero 60 Patron Drilovsky Sturator Peter, Katie, Georgie, Margie, Sally, Jessica e molti altri personaggi Io mi rendo conto che in questo periodo l'animazione è un grosso problema per incassi ma bisogna lavorare sodo per fare emozionare i film d'animazione di ogni età e a fare successo di pubblico e critica invece io spero che il cinema d'animazione torni alla normalità e che faccia un bellissimo lavoro anche se quest'anno il film d'animazione con il più grande successo di tutti i tempi è Super Mario Bros il film Poi passiamo a Kiss Next Door Reboot Allora, io non vedo l'ora di vedere anche Kiss Next Door Reboot perché Cartoon Network sta facendo una strada sbagliata e ha bisogno di nuove idee Per questo motivo il ritorno di Kiss Next Door sarà realizzato da un nuovo team che non ha mai fatto Questo reboot animato sarà ambientato dopo gli eventi di Kiss Next Door Kiss Next Door Operazione Interviste e Kiss Next Door Operazione Eroe E il nuovo campo è proprio il numero 5 perché nel gran finale della serie animato originale numero 1 era partito nella galassia lontana lontana affidandone il comando del team Io aspetto che sia un reboot davvero divertente colossale e pazzesco perché dopo i reboot di vecchie serie animate come Johnny Test DuckTales, I Puffi, Ben 10, Animaniacs e moltissimi altri Kiss Next Door Reboot sarà accompagnato dalla colonna sonora in cui verranno utilizzate le musiche di La Vita Mondenna di Loco, Renne Stimpy, SpongeBob e appunto Kiss Next Door Questo reboot deve avere successo e se lo merita davvero tanto Poi noi passiamo al terzo al terzo prodotto cioè Jessica Legacy Io mi rendo conto che Jessica è una ragazzina fantastica con delle speranze ma Jessica Legacy è proprio la serie animata dedicata a lei Per questa serie animata io ho un hype veramente pazzesco Perché? Perché nella serie animata originale lei non ha mai parlato e sarà anche uno dei personaggi che noi vedremo in Kiss Next Door Reboot Io devo dire che a livello produttivo io vorrei vedere una Jessica coraggiosa e rispettabile verso gli altri e io sono veramente contentissimo che Mr. Lawrence realiserà questa serie animata per la prima volta come creatore perché in passato lui è sempre stato come doppiatore e anche come sceneggiatore delle serie animate di altri creatori Ma pensate per esempio a a Joe Marley per la vita moderna di Locco e a Camp Laszlo oppure anche a Stephen Hildenburg per Spodchpop Ma questo è l'obiettivo giusto Di abbigliamento Jessica dovrà avere il bikini bianco che aveva indossato nei due episodi sia della terza che della quarta stagione della serie animata originale poi dei consumi di moda il consumo da investigatrice e moltissimi altri Io sono felicissimo di dirvi che che Jessica Legacy è la seconda serie animata dell'universo cinematografico e seriale di Kiss Next Door che io attendo tantissimo dopo Kiss Next Door reboot e che Jessica è in assoluto il mio personaggio che a me ho preferito di Kiss Next Door ma io non vedo l'ora di vederla in azione perché lei ha un talento veramente incredibile ok noi ci vediamo dopo con la seconda parte ma io vi ho già detto che questo special sarà diviso in tre parti e noi ci vediamo dopo con la seconda parte a questo punto ciao dopo con la seconda parte non mancatevi grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata